La 176 Arca Millennium King, in sella Chiara Bartoletti, cavallo di proprietà di XO Raining Horses, al cancello 130. This is Exhibitor No. 176, followed by No. 130. Exhibitor No. Exhibitor No. Exhibitor No. Exhibitor No. Exhibitor No. Grazie a Chiara Bartoletti e Arca Millennium King. Punteggio per Chiara Bartoletti è di 211. Score on this ride, 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 211.